Disegniamo tutti insieme e scegliamo qualcosa da disegnare tutti quanti insieme Ciao Sara, cosa scegliamo insieme? Cosa disegniamo con i nostri bambini? Una Coca-Cola? Forse si può Cosa scegliamo? Una casetta? Allora, adesso dovete immaginare davanti o fuori in foglie di carta bianco e poi ti viene da disegnare ma prima di tutto vediamo che il libro del Mago Cacà è un libro bianco completamente bianco vedete? E adesso noi tutti quanti insieme prendiamo la nostra macchina in mano ce l'avete tutti la macchina in mano? Sì! E adesso tutti insieme disegniamo la nostra casetta via! Facciamo il tetto facciamo la porta la finestrella il covignolo sul tetto con il fumo che vola suuuu le debole, le debole dobbiamo fare le debole uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, dieci debole dieci, 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 dieci debole bene? Facciamo la finestrella ne ruota la storadina bravi bambini e adesso il vostro disegno per magia apparirà prima lo coloriamo prima lo coloriamo prendiamo come sono per colorare le debole prendiamo il rosso coloriamo le debole adesso coloriamo la porta le finestre di marro bravissimi ok il fumo che ce l'accomino lo facciamo? vai grigio bene la ruola la facciamo? bene vediamo se sono stati bravi vediamo e adesso oh ma voi non avrete disegnato solamente una casetta l'avete disegnato un sacco immagini bellissime e abbiamo voi avete colorato il mito belle macine un applauso bambini grazie a tutti 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 Grazie.